Concessionari all'auto, a montagna in Valtellina. Il futuro quindi passa attraverso una mela brevettata di proprietà locale che abbia caratteristiche salutistiche superiori perché prodotta in un territorio di montagna. E questa è la proposta di Graziano Murada, direttore della Fondazione Foglianini, in merito alla querella scoppiata fra i conferenti delle mele e la cooperativa Mela V. La polemica esplosa sui social attraverso un post di Silo Crapella, uno dei contribuenti di Mela V, in cui si denunciava la forbice troppo elevata fra il prezzo di vendita nei supermercati e la cifra versata ai conferenti, 2,39 euro contro 20 centesimi. La mia soluzione da applicare nel medio e lungo periodo, ha spiegato Murada, consentirebbe ai coltivatori di spuntare alle cooperative qualcosa in più rispetto ai 20 centesimi attuali. Sottolineo medio e lungo periodo, specifica il direttore della Foglianini, perché la diatriba è figlia di un problema più vasto. Da alcuni anni in Europa c'è un surplus di produzione, con alcuni paesi emergenti, specialmente dell'est, che riversano sul mercato grossi quantitativi di mela. Questo ovviamente provoca un ribasso dei prezzi non risolvibile in tempi brevi. La necessità quindi anche in Baltellina è quella di stringere le fila, di far calare le polemiche e soprattutto i conferenti devono avere fiducia nelle loro associazioni di produttori e nelle loro cooperative.